Finalmente al via i primi significativi lavori di restauro di Villa Manzoni. Un intervento atteso presentato ufficialmente durante la conferenza di celebrazione dei 170 anni dall'elevazione di Lecco da Borgo a Città alla presenza tra gli altri del soprintendente Luca Rinaldi e di Mario Romano Negri in rappresentanza della Commissione Arte e Cultura di Fondazione Cariplo. Il progetto di ristrutturazione del piano terreno del Polo Museale e in particolare del Museo Manzoniano è stato elaborato di concerto con la competente soprintendenza cui va ricondotta la titolarità ed è realizzato grazie al finanziamento di 452.000 euro da parte del Ministero dei Beni Culturali e di ulteriori 380.000 euro messi a disposizione da Fondazione Cariplo. Del 2015 sono invece le opere di messa a norma degli impianti in diverse ali della villa il consolidamento strutturale di alcune arcate e il rifacimento di solette pavimentazioni realizzati dal Comune sotto la supervisione della soprintendenza. Il restauro del Polo Museale di Villa Manzoni prevede l'ampliamento e la riqualificazione dei servizi al pubblico e una maggiore integrazione gestionale a livello di Simul con l'obiettivo di rendere più attraente la villa recuperando apparati decorativi interni e mettendo a norma gli impianti delle sale espositive. Passi propedeutici alla realizzazione di un nuovo percorso del museo arricchito con contenuti e con strumenti di fruizione innovativi compresi quelli multimediali anche attraverso il recupero di nuovi ambienti in cui collocare la portineria ed altri servizi accessori. Il progetto verrà quindi completato con il riallestimento delle sale espositive e l'arredo degli spazi di biglietteria e accoglienza del pubblico. L'integrazione dei progetti ha come fine ultimo la valorizzazione architettonica della dimora contestualizzando al meglio le vicende del grande scrittore e della sua famiglia all'interno della storia del territorio lecchese. Il tutto sarà coronato dalla realizzazione del Museo della Lingua Italiana grazie alla collaborazione con la Fondazione Tre Cani Cultura.